la pezzata hai mai sentito parlare della pezzata la pezzata so di che cosa si si intuisce la pezzata le botte di cocaina la pezzata non ne ho mai ne ovviamente praticata nella mia vita mi sono soltanto fatto un paio di canne diciamo un paio così si dice sempre un paio ma te lo direi guarda quinta ginnasio neanche una una volta al mese al liceo qualcuna l'ultima anni fa ma due per modo di dire migliaio un migliaio in una vita confession time confession time mi sono fatto migliaia di canne migliaia di canne vedi che già vedi che già cambi e tu l'hai detto migliaia ho detto dalla quinta ginnasio ma no ma non c'è niente di male ma saranno migliaia ma saranno anche milioni se ti va ma non c'è problema ti ho detto però adesso da quando è nato il mio secondo figlio ma che c'entra che legame c'è scusa qual è il collegamento non le ho più fatte ma perché ormai a una certa età per responsabilità perché cosa no ma quale responsabilità mi viene una botta mi viene una botta una botta di addormenti ma addormenta ma addormenta che devo fare comprensibile allora ti faccio sentire una play